Seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche per la polisportiva che liquida la Poseidono con un secco 2-0. Partenza al razzo della formazione giallorussa che al quarto si porta in vantaggio con Esposito che finalizza un'ottima azione sviluppatasi sulla corsia di sinistra. 60 secondi dopo i giallorussi potrebbero fare ancora male alla Poseidono con un tiro di di Gregorio. Il vantaggio galvanizza i padroni di casa che sempre sulla stessa fascia si rendono pericolosi con un cross di Fiorillo. Al tredicesimo tiro debole e centrale dinunziata. Lo stesso 10 ci prova con altre due conclusioni che non terminano però nello specchio della porta. Gli ospiti provano allora ad affacciarsi dalle parti di Russo ma senza essere pungenti. La squadra di Pirozzi invece trova il raddoppio al ventunesimo ancora con Esposito che dopo aver approfittato di un pasticcio difensivo della Poseidon salta abbracciante e deposita in rete la sfera del 2-0. La primavera palla goal per gli ospiti giunge al 32esimo con Forino che da ottima posizione spreca l'opportunità di accorciare le distanze. Al trentasettesimo tentativo di Paolini che termina al lattissimo. Dalla parte opposta Piccirillo non riesce a finalizzare su un bel cross dinunziata. Lo stesso 9 della polisportiva costringe Bracciante a deviare in angolo un perfetto colpo di testa. Nel finale del primo tempo i giallorossi sono ancora pericolosi con un tiro di Di Gregorio. All'inizio dei secondi 45 minuti di gioco giallorossi subito pericolosi sui sviluppi di un corner. La Poseidon risponde con un tiro dell'assolito Forino bloccato da Russo. I giallorossi potrebbero trovare la terza rete al quinto con unziata ma la sua conclusione è bloccata da Bracciante. Rischia tanto al decimo la polisportiva su un calcio di punizione della Poseidon che taglia tutta l'area di rigore e termina fuori di un soffio. Al tredicesimo punizione di Esposito rispinta con i pugni dall'estremo difensore ospite. La polisportiva Santa Maria è padrona del campo e quando attacca mette sempre in difficoltà la retroguardia ospite. Accade anche alla quarto d'ora quando Bovi potrebbe portare i suoi sul 3 a 0. Le occasioni fioccano per la polisportiva che sfiora la terza rete anche al diciannovesimo con un tiro di Piccirillo rispinto da Bracciante. Dalla parte opposta il solito Forino a tirare la carretta e a rendersi pericoloso. Al ventisesimo lascia partire una bomba che si stampa sulla traversa. Poco dopo la mezz'ora anche il neo entrato romano potrebbe mettere la firma nel tabellino dei marcatori. Al trentaquattresimo punizione fuori misura di marmoro mentre 60 secondi dopo è impreciso di Gregorio. Al trentanovesimo dalla parte opposta inzuccata di Aleman sugli sviluppi di un calcio d'angolo e palla fuori di pochissimo. Anche nel finale di gara i giallorossi potrebbero andare in rete. Vittoria dunque importante per la squadra di Santa Maria di Castellabate che ottiene altri tre punti preziosi e si piazza al secondo posto in attesa del match dell'Angri.